È un'area privata che stiamo già monitorando con il settore ambiente e che nei prossimi giorni poi investiremo con dei controlli mirati da parte della Polizia Locale. È un'area sulla quale c'è già l'attenzione a seguito anche di un fatto accaduto di recente, un piccolo incendio che ha colpito quell'area, che è un'area impervia perché in parte abbandonata dalla proprietà privata, sulla quale abbiamo già avviato dei contatti. Risponde subito così il sindaco Rucco alle segnalazioni provenienti dal quartiere Santa Bertilla, a cui noi di Rete Veneta avevamo dato voce. Un'antica proprietà di importante valore storico che si trova in prossimità di Viale di Visione Giulia è stata lasciata abbandonata all'incuria del tempo da troppi anni, dicono i cittadini. L'edificio è stato violato da sbandati che ne hanno fatto un covo di microcriminalità che minaccia i residenti. Insomma, che si è estracomunitari, che si è vettuto, animali, bestie, pantegane, diciamo qua ogni altro a Vicenza. Comunque è una cosa pazzesca, mai stato curato. Ho paura, insomma, io chiudo sempre la porta, anche di giorno. C'è danni e così, quindi non mi ricordo che sono venuti due o tre volte a pulire e sistemarla. Sì, è una villa appunto privata anche di pregio, quindi vincolata, tutelata dalla soprintendenza. Bisogna muoversi sempre con cautela dal punto di vista storico e architettonico, però allo stesso tempo non può essere abbandonata. Quindi il Comune interviene per i controlli e per eventualmente dei provvedimenti coattivi di pulizia. Una situazione purtroppo che si ripete anche in altri quartieri. Recentemente, anche con l'intervento di sgomberi coatti coordinati dalla Questura, si sta procedendo passo passo per ripristinare l'ordine e la pulizia. Noi stiamo monitorando molte aree ormai abbandonate e lasciate appunto impervie dai privati. Interveniamo sistematicamente con delle diffidi dove chiediamo la pulizia del verde, dove chiediamo la muratura degli ingressi, spesso e volentieri. In questo caso, naturalmente, laddove non c'è riscontro da parte del privato, interviamo con un'ordinanza. Il Comune si sostituisce al privato, fa l'operazione di pulizia e di chiusura e poi addebita i costi naturalmente al privato.